Io adoro mangiare! Quando viaggio, cerco di scoprire il luogo in cui sono anche attraverso il suo cibo e le sue tradizioni culinarie. Se si tratta di preparare il cibo, allora no, non mi piace molto! Io sono Susanna, insegnante di italiano per studenti stranieri e, lo ammetto, non mi piace cucinare o cuocere. Cucinare o cuocere? Conoscete il significato di questi due verbi? Quando usiamo l'uno e in quali contesti l'altro? Se siete nuovi su questo canale, ricordatevi di iscrivervi e di mettere mi piace perché tra poco vi svelerò gli utilizzi di questi due verbi italiani. Cuocere e cucinare! Having a hard time learning the Italian subjunctive verb mode? Have you been studying Italian grammar for a while now but are still unable to hold a conversation? Don't worry! These difficulties can be easily overcome with a constant method, like the Accademia that Arcos Academy offers. The Accademia will accompany you step by step in your Italian learning path by following four key points. Boost your grammar, boost your grammar, improve your Italian listening and comprehension skills, check with exercises, all with consistency but at your own pace. What about speaking? With Accademia you can experience Italian from A to Z and you can also improve your conversation skills. It doesn't matter if you're a beginner, intermediate or advanced. In Accademia you will find useful material for all levels. Join Accademia and learn Italian for real! Click on the link in the description! Questa è una domanda che i miei studenti mi hanno fatto diverse volte durante le nostre lezioni private di italiano. Si dice cucino la pasta o cuocio la pasta. Questi due verbi sembrano sinonimi ma in realtà hanno diverse sfumature che li differenziano sia nel significato sia nei contesti in cui vengono impiegati. Partiamo dal punto di vista grammaticale. Eh eh, la vostra amata grammatica italiana! Cucinare è il verbo più simpatico. Fa parte del primo gruppo dei verbi inare e soprattutto è regolare in tutti i modi e i tempi. Non c'è nessuna eccezione o regola particolare di cui ricordarsi. Cuocere invece è un verbo irregolare, l'incubo degli studenti italiani delle scuole elementari, medie, superiori, per gli adulti, gli anziani. Partiamo dal participio passato. Cotto. Cotto è il participio passato del verbo cuocere ma il tempo più irregolare di questo verbo è il passato remoto. Vuoi sapere come si coniuga cuocere al passato remoto? No. No? E io te lo dico lo stesso! Io fossi, tu cuocesti, lui cosse, noi cuocemmo, voi cuoceste, loro fossero. Eh già! Passiamo ora alle situazioni in cui possiamo utilizzare questi verbi. Cucinare e cuocere. Entrambi sono di origine latina ed entrambi, giustamente, si utilizzano in un contesto culinario. Cuocere indica il passaggio dell'alimento da crudo a cotto. Il cibo deve essere sottoposto all'azione del fuoco per poter essere mangiato. La presenza del fuoco, del passaggio da crudo a cotto è fondamentale nel nostro contesto per poter utilizzare cuocere. Per questo motivo nelle ricette italiane di cucina possiamo trovare tantissimi esempi come cuocere nel forno a 180 gradi, cuocere in padella, cuocere la carne a fuoco vivo, cuocere la zuppa a fuoco lento, eccetera, eccetera. Cucinare, invece, non si esaurisce in una sola azione. Cucinare implica diversi passaggi come conoscere la ricetta, saper selezionare gli ingredienti, preparare le dosi, eccetera. Tuttavia, cucinare non è utilizzato solo per indicare i passi da seguire per preparare un piatto. Si utilizza anche per dire di saper preparare un determinato cibo, oppure per riferirsi al modo generale di farlo. Sì, lo so che hai bisogno di esempi per capire meglio i contesti. Eccoli qui! Mamma cucinerà la pasta alla carbonara per tutti domenica. Non so cucinare il pollo. Oh, Paolo è bravissimo a cucinare. Vorrei che mi invitasse a mangiare da lui ogni settimana. Lo sai che il verbo cuocere ha anche altri utilizzi? Se il verbo cucinare può essere impiegato in ambiti specifici, come in quello giornalistico o regionale, cuocere è presente anche in contesti più comuni della vita di tutti i giorni. Cuocere si usa quando il fuoco cambia la natura di materiali diversi dal cibo, come i mattoni, il vetro, l'argilla. È anche strettamente legato al sole e alla sua forza di riscaldare, di bruciare. Non è un caso che una delle frasi più comuni associate al sole sia sole cocente. Cocente è participio presente di cuocere. Dà quindi l'idea di un sole talmente caldo che è capace di cuocere qualunque cosa, chiunque. In un altro contesto ancora possiamo trovare l'espressione innamorato cotto di qualcuno o semplicemente essere cotto di qualcuno. Fate attenzione perché questa funzione del participio passato deve essere accordata in base al sostantivo a cui si riferisce l'espressione. Perciò si dirà Margherita è innamorata cotta di Alberto, Ezio è cotto di Emily. Il participio passato di cuocere, cotto, può essere usato figurativamente quando si è esausti, stanchissimi. Sono appena tornato a casa dal lavoro e sono cotto. Non penso che uscirò stasera. Bene, abbiamo visto sia le differenze tra cucinare e cuocere in ambito culinario, sia gli altri contesti in cui potresti trovare o sentire il verbo cuocere. Non ho fatto una lista esaustiva, ma spero comunque che il video ti sia piaciuto. Fammelo sapere con un commento qui sotto e indicami se anche nella tua lingua si utilizzano due verbi simili, ma diversi, relativi alla cucina. Io ti saluto e ti do appuntamento a giovedì prossimo!